ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come vedete dal titolo aggiunto degli indizi e attenzione qui è ciò che aveva detto addirittura test fans 2 il nostro amatissimo insider qualche mese fa che con questo dlc insomma rockstar games avrebbe iniziato la fase di teasing e di aspettarci un annuncio o un reveal di gta 6 o quest'estate o insomma con molto più probabile l'anniversario di dieci anni dall'uscita di grand theft auto 5 e ragazzi senza perdere tempo ovviamente iscrivete al canale lasciate mi piace perché importantissimo per il posizionamento del video ma soprattutto lasciate anche un commento perché voglio sapere la vostra su un argomento del genere visto che ragazzi qui abbiamo un indizio veramente che è tanta tanta roba questi di rockstar games sono proprio degli infami bisogna dirlo quindi come vedete ce lo fanno dare gta net che per chi non lo sapesse è uno degli admin o è la pagina diciamo in generale ufficiale di gta forum sarebbe il forum ufficiale gta che esiste da vent'anni in cui fanno speculazione è pieno di insider dicono le robe in anticipo insomma lo sapete sicuramente comunque con l'ultimo dlc da suburban o comunque in qualsiasi negozio di vestiti hanno aggiunto nella categoria gta 5 anniversario leggete lì gta 5 anniversario questa maglietta qui che ha i punti interrogativi adesso io sono andato a cercare questa maglietta e non c'è più perché non c'è più perché è stata rimossa però controllando nel guardaroba alcuni ce l'hanno ancora quindi attenzione che rockstar games qui ha voluto fare la giocata secondo me l'ha messa per un'oretta così appunto da far spargere la voce e poi l'ha tolta solito teasing di rockstar games che fanno con i loro giochi lo sappiamo addirittura ho letto comunque me lo ricordavo ci fossero dei riferimenti a gta 5 in max pain 3 comunque ragazzi lo sapete hanno messo quella foto lì di una casa di miami su gta san andreas nella nella trilogy e insomma nessun gioco quella lì sicuramente ce la ritroveremo su gta 6 comunque come vedete questa maglietta e cosa c'è di particolare voi mi direte non c'è appunto il punto interrogativo intanto comunque e poi i numeri attorno alla figura adesso sono andati intanto qui di luvi a proposito sono andati a decifrare questi numeri l'hanno fatto direttamente quelli di gta net che insomma sanno il fatto loro a livello di insomma di informazioni in anteprima e andando appunto a decifrare questo numero con insomma i codici segreti guardate cosa esce ovviamente non può essere una coincidenza un giorno riveleremo tutto voi adesso mi dovete spiegare rockstar games che va aggiungere una maglietta con questo messaggio in codice un giorno riveleremo tutto e poi la toglie adesso ragazzi ditemi che questo qui non è un teasing per quanto riguarda gta 6 vai ditemelo se avete il coraggio lo scrivete nei commenti e fate un dibattito serio non secondo me lo scrivete basta per me ragazzi questo qui è uno dei primi teasing ufficiali che fa rockstar games senza considerare quelli che ha fatto in passato che abbiamo visto come il simbolo della metro sulla livrea della macchina che abbiamo visto nei leak di gta 6 va bene quello è un teasing ok però ragazzi questo qui secondo me si può classificare con una specie di reveal di gta 6 che vi ripeto secondo me arriverà con l'anniversario di gta 5 perché se ci fate caso gta 5 anniversario la categoria e trovate questa maglietta che poi è stata rimossa con il messaggio in codice un giorno riveleremo tutto questi rockstar games sono dei buffoni sono degli infami però veramente io queste cose le adoro fatemi sapere vi ripeto la vostra nei commenti vi ringrazio veramente tanto per la visione noi ci vediamo al prossimo video no Grazie a tutti.